Questa è una manifestazione che si svolge ogni anno da diversi anni, per quanto mi riguarda è la prima volta che partecipo, anche perché negli ultimi anni era stata sospesa come attività, però ricopre un'importanza, lamenta la cuore, la pulizia di casa propria in fin dei conti. E quindi si è rinnovata questa occasione con una grande partecipazione che speriamo si possa rinnovare anche durante due ragioni. E coinvolgere sempre più persone che tengano alla pulizia di casa propria, per entrare in contrasto con tutti quelli che a questa pulizia non ci tengono e imbrattano i posti in cui noi abitiamo. E quindi ben vengano queste iniziative, puliamo il mondo nello specifico, vi aspetto e aspetterò tutti i volontari che vorranno contribuire assieme a questi cittadini a pulire il mondo.